canale 74 e la basilica santuario vi invitano a seguire lo speciale televisivo della madonna delle grazie a monica tra devozione fede storia e tradizione un documento della festa nell'anno giubilare della misercordia martedì 24 maggio ore 21 in replica mercoledì 25 alle 11 e giovedì 26 alle 19 in collaborazione con l'hotel de moac modica giotoka modica la concessionaria peugeot e citroen dovanni cappello e figli modica e ragusa trattoria l'arco modica